306 metri di lunghezza, poco più di 37 di larghezza, 1845 cabine di cui 10 grandi suite, possibilità di ospitare fino a 4700 persone e 1700 uomini di equipaggio. Sono solo alcuni dei numeri più interessanti e curiosi della Carnival Breeze, l'ultima nata della compagnia Carnival Cruise Line costruita nei cantieri di Monfalcone e varata lo scorso 2 giugno ed ora al suo primo viaggio nelle acque del Mediterraneo. A rappresentarla in Italia la CEMAR Agency a Salernola della Corte C. Questa mattina la proto del porto cittadino e la possibilità per tanti turisti di conoscere la città. La Carnival Breeze è una città galleggiante con parco acquatico all'ultimo piano, campo di golf, area fitness e centro benessere. E poi l'alta tecnologia per il divertimento quotidiano e diversi ristoranti che offrono piatti tipici della gastronomia mondiale. Per la compagnia è un'esperienza nuova, no? Salerno, la costa d'Amalti? Diciamo che la costa campana non è la prima volta perché già la Carnival l'anno scorso e gli anni precedenti è venuta a Napoli. Per la Carnival Breeze è la prima volta che veniamo a Salerno. Perché si sceglie Salerno? C'è una strategia anche commerciale particolare per quanto riguarda la compagnia? Non saprei, penso che la costa qui a Amalfitana e tutta la zona della Campania sia un'attrazione turistica, non indifferente rispetto agli altri. Abbiamo più di 4.000 passeggeri a bordo e il nostro target è quello di farli divertire tutti. Questo è un villaggio galleggiante, possiamo definirlo così? È una piccola città che galleggia? Sì, sembra una nave innanzitutto. Comunque si potrebbe anche definire una piccola città galleggiante. Dove ovviamente si vive 24 ore al giorno a bordo con tante attrazioni, c'è di tutto qui. Sì, abbiamo parecchie attrazioni, una nave molto all'avanguardia, soprattutto anche sulla struttura passeggera. E' una bella nave, i passeggeri si divertono. Poi abbiamo dei passeggeri di quasi tutte le nazionalità del mondo. Una bella esperienza. Una curiosità, lei questa professione da quanti anni la svolge e se la passione c'è sempre, ma soprattutto l'entusiasmo della prima volta? Diciamo che la passione c'è sempre. Questa è un'attività che ho iniziato circa 26 anni fa, quando ho iniziato ad andare per mare. L'ho sempre fatto, non ho mai interrotto. Sono sempre stato su delle navi da passeggeri, quindi ho molta esperienza su questo tipo di navi. E mi piace, l'entusiasmo c'è sempre, rimane, insomma è una bella esperienza. Un'altra compagnia importante a livello internazionale è la Carnival Breeze. Porta a Salerno una nave imponente, importante, altamente tecnologica, bellissima nello stile, che muove una vera e propria città, che sbarca a Salerno. Lo fa quest'anno per due volte, grazie ad un investimento che stanno cominciando a fare anche come compagnia Carnival sul nostro porto. Per cui ci sono tutte le condizioni ovviamente per esprimere grande soddisfazione e per cominciare ad avere davvero il senso dei risultati che stiamo conseguendo con la quintuplicazione quest'anno dei croceristi che sbarcano a Salerno. La quintuplicazione che abbiamo registrato in poco più di qualche anno.